Per me la teologia dell'Islam è liberatoria, cioè una cosa che mi libera, perché mi dà la libertà di vivere come voglio, mi dà la libertà di pensare criticamente, mi dà la libertà di esprimermi e per me ancora più importante è che dà la libertà di decidere se si vuole credere o non credere in Dio e questo è il massimo della libertà.